E' una cliché che si presenta ogni estate di questi tempi, è una vicenda che ormai ci trasciniamo da troppo tempo. Finisce un campionato e cominciano le difficoltà per il gelacalcio. La famiglia Tucci ha lasciato il 60% delle quote del pacchetto azionario, incaricando l'amministrazione comunale di individuare potenziali nuovi ingressi. Detto fatto, ci sono due imprenditori catanesi disposti ad entrare nel club biancazzurro, affiancando i fratelli Mendola, detentori del 40%. Tutto ok? Problema risolto? Assolutamente no. Proprio ieri sera, attraverso un comunicato stringato, i fratelli Mendola hanno fatto sapere che dalle notizie dirette in loro possesso, il gruppo catanese non ha confermato la disponibilità a rilevare le quote del 60% e di conseguenza anche loro lasciano la loro quota nelle mani del sindaco Domenico Messinese. Nella nota, i fratelli Mendola ringraziano i tifosi che in quest'ultimo periodo hanno potuto apprezzare l'iniziativa portata a termine la stagione scorsa, quando, si legge testualmente, salvammo la squadra, ma riteniamo che non ci sono più le condizioni per continuare con una generosità non compresa e quasi disprezzata. Abbiamo provato a contattare Angelo Mendola per farci spiegare nel dettaglio cosa è accaduto, cosa si è interrotto in questi giorni, con chi avrebbe dovuto farsi carico del 60% dopo le ultime riunioni. Il nostro tentativo è fallito. Mendola, infatti, ci ha rimandato al suo portavoce, l'avvocato Fabio Fargetta. Abbiamo provato a contattarlo, telefonino perennemente irraggiungibile. E adesso cosa accadrà? Proprio due giorni addietro, l'amministrazione comunale, in una nota, sottolineava di essersi fatta parte dirigente nell'agevolare un incontro tra i fratelli Mendola ed il gruppo di imprenditori catanesi, rimarcando un manifestato interesse di entrambe le parti ad avviare un progetto che potesse rilanciare il gelacalcio. Poi ieri, invece, tutto è cambiato. Si prevedono giorni caldissimi. Proprio due giorni.